La Nissa, prima dell'ultima partita del girone di andata e dell'anno a Sciacca, si regala altri due tasselli importanti. Il direttore tecnico Antonio Emma, in collaborazione con il direttore generale Vincenzo Cancelleri, hanno perfezionato l'ingaggio dell'esperto difensore centrale Michele Fragapane, prelevato dalla Mazzarese, squadra che milita come la Nissa nel girone A del campionato di eccellenza. Poi, al posto del partente Selmi, ritorna in biancoscudato il portiere Claudio D'Amico, che con la Nissa aveva disputato solo il ritiro estivo, è già sceso in campo domenica al Tomaselli nella vittoriosa partita contro il Mazzara. Ho sposato questo progetto con Dandavoia, speriamo di fare il più bene possibile. Pensiamo in Dandasciacca e poi vediamo il da farsi. Ho deciso di accettare questo progetto dopo aver parlato con il dirigente Cancelleri e il direttore Antonio Emma. Mi è piaciuto molto il progetto che lui mi ha voluto spiegare. Ho deciso di ritornare perché tengo anche a questa maglia, a questi ragazzi e a tutto.